Il papà di nostro patrono si mette a frappare, a tapare, vuoi te laver, non c'è l'eau. Mange che viene, non puoi mangiare. Tu sei cattivo. Tu non rispettare nessuno. Se tu non fai così, 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 io ti uccido. Io ho detto alla polizia, quello che mi vuole uccidere, ma loro non dicono niente. Stupire newe volete più gestellt. Ma esa forma. Mappomit grâce. Ehi K sno illuminata. Vacha! Vacha! Vacha. 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 Vacha! 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 Papà di an***a stava corriendo per prendere un ferro e io ho fermatelo io, suo figlio an***a ha venito a mi spegnere, ha presa qui sì, non voglio mi lasciare. Tutto quello che hanno scritto in questo foglio non è vero. Nella cucina non c'è coltello, è solo cucchiare, è plastico. Il papà di nostro patrono si mette a uscire, a uscire. Tu vuoi te laver, non c'è l'eau. Ci sono venire a fermare le doucho, fino al mattino, fino a 14 ore. Mange qui viene, non puoi mangiare. Ci sono affichato il problema del pocket money, per la date del 8, il 13. E poi, dopo, sono venuti a dire ancora che non, il 18, sono venuti a dare l'argento del pocket money. Loro vogliono andare via. Perché un giorno vengono dalla prefettura per controllare come stiamo vivendo in casa. Dicono, se qualcuno ha detto che mangiare non è buono, non avrai documenti, niente. Ho visto una della prefettura, una signora, signore, è uscito fuori ufficio per fumare, io ho chiamatelo. Io ho detto che mangiare non va bene, non abbiamo buoni vestiti. Da quando io ho parlato con la prefettura, vedi come una persona cattiva. Tu sei cattivo. Tu non rispettare nessuno se tu non va a fare così, 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 così. Io ti uccido. Io ho detto alla polizia quello che ha detto che mi vuole uccidere. Ma loro non dicono niente. In questo momento siamo tutti fuori, siamo sulla strada. Se loro non vogliono lavorare con pazienza, con cuore, non possono fare questo lavoro. Anche non devono fare questo lavoro per soldi e per cuore.